Da grande capitano, dici le tue sensazioni per questa partita. È stata una partita difficile, soprattutto all'inizio siamo partite un po' contratte. Ovviamente c'era un po' di tensione, poi è una squadra giovane, quindi è più difficile gestire le emozioni. Per fortuna abbiamo creato un po' di occasioni, non abbiamo rischiato tanto, poi siamo passate in vantaggio. Nell'intervallo il mister ci ha dato una bella carica che ci serviva e soprattutto ci siamo divertite. Abbiamo trovato un po' più di gioco, eravamo un po' più tranquille e alla fine ci abbiamo fatta. Benissimo, è stata una vittoria del gruppo, le ragazze hanno fatto una grande partita. Al primo tempo ho gestito molto bene e secondo siamo dilagate alla grande. Penso che questa sia una vittoria del nostro grandissimo gruppo. Un abbraccio a tutti, forza Florentia! Che ci dici le sue emozioni per questa partita? Grande, ora vedremo, non esageriamo. Io sono emozionato perché questa è la vittoria di un gruppo, un gruppo importantissimo, che è nato dal nulla e che oggi ha dato ancora prova di essere imbattibile. Le ringrazio dalla prima all'ultima e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per arrivare a questo obiettivo. Grazie davvero.